Tero sconvolgente Se fossi scoperta saresti uccisa Un segreto legato al destino della chiesa Sacrificò la sua vita Ho poteri che le altre donne nemmeno si sogni Per far trionfare la fede Meglio farlo sparire La papessa Prima TV Canale 5, venerdì 8-9 Tu pensi che fosse nostro padre? Una verità Ora sembra così vicina Dobbiamo ricominciare da Amedeo Così semplice e palpabile Tutto è cominciato da quando è tornato a Villalba Ma è inafferrabile Più di un assassino quindi Sospetti, allusioni, illusioni, intuizioni La stiamo guardando troppo da lontano Signora Torre? Dobbiamo avvicinarci di più Scoperte Oddio no Pericolo Un maresciallo troppo scrupoloso Le tre rose di Eva 2 In prima TV assoluta mercoledì 13 novembre Su Canale 5 Rivedi la prima stagione delle tre rose di Eva In esclusiva su Five Store